Doppio giro di pista! Non ho mai visto sugli 800 suonare il campanello, e neanche sui 1.500! Doppio giro di pista! Fausti, Boroni e Adeni, Boroni e Adeni al podio, grazie! Alice Nargiso, ultima curva, rettilineo! Un applauso per questi atleti della prima serie dagli 800! Alice Nargiso, per lo sesto! Giulia Manzoni, 2.15 e 20! Il tempo che spero che faccia mio figlio! Se lui non lo sopporta! 100 vetri, 100 slagoli, il giavellone... ...